Buongiorno, la volta scorsa Mario Carboni ci aveva anticipato che questo terzo appuntamento l'avrebbe dedicato al regista Zanussi. Confesso che ho dovuto prima documentarmi sul regista polacco scoprendo cose interessanti in merito. Quindi possiamo iniziare con il salutare e ringraziare Mario Carboni per la sua disponibilità a essere nuovamente con noi oggi. Ciao Mario, ciao Bruno e a tutti quelli che ci seguono. Ma veniamo subito alla domanda d'obbligo. In che modo hai avuto occasione di conoscere Zanussi? Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Zanussi grazie al Cine Club Sestrese e a un distributore di film che mi aveva proposto di proiettare al Verdi l'ultimo lavoro del regista intitolato Constance con la presenza dello stesso autore in sala. Il film aveva ricevuto la palma d'oro a Cannes nel 1980, un'occasione unica per un Cine Club. Conoscevo di fama il regista per aver presentato al Cine Forum uno dei suoi primi lavori, La struttura di Cristallo del 1969 e ne avevo seguito la carriera sulle riviste cinematografiche. Avevo accolto la proposta con entusiasmo organizzando ogni cosa. Raccontaci dell'arrivo del regista Zanussi al Teatro Verdi di Sestriponente. La mattina del 25 febbraio 1983 era arrivato il regista al Verdi. La mia sorpresa più grande era stata quella di scoprire che sapesse parlare l'italiano perfettamente e che conoscesse Sestriponente dove erano state varate alcune gasiere per la Polonia alle quali lui aveva lavorato per la parte elettrica nei famosi cantieri Lenin di Danzica. Eravamo subito entrate in grande empatia. Oltretutto siamo coetanei. Dopo la conferenza stampa con i giornalisti e alla presenza di alcuni amici dei Cine Club genovesi che avevo invitato, c'era stato un piccolo rinfresco nel foyer del teatro. Poi è iniziata la proiezione del film in anteprima alla presenza degli invitati in sala. Al termine siamo andati a pranzo da Baldini in Piazza Tazzoli. Mi aveva raccontato che il suo trisnonno era emigrato in Polonia dal Friuli, a quei tempi sotto l'impero astro-ungarico. Conosceva molto bene la storia della Repubblica Marinara di Genova. Sapeva parlare correttamente l'inglese, il tedesco, il russo, il francese e ovviamente l'italiano e il polacco. So che nel pomeriggio hai portato Zanussi a visitare il cantiere. Sì, nel pomeriggio Zanussi aveva espresso il desiderio di vedere il cantiere dove erano nate le navi sulle quali aveva lavorato anni prima. Mentre camminavamo in via Sestri era stata per me l'occasione di parlargli sulla storia del cantiere, che conosco molto bene, citando i nomi delle navi più famose. Arrivati davanti al cantiere, Zanussi era molto soddisfatto della giornata ringraziandomi caldamente. L'aveva accompagnata al taxi dandoci un appuntamento alla prima occasione. Solo per la cronaca il film aveva avuto un grande successo di pubblico ed era stato proiettato per ben tre giorni. È vero che hai rivisto Zanussi quattro anni dopo a Venezia? No, l'occasione si era presentata l'anno dopo, quando veniva presentato in concorso il suo nuovo film, L'anno del sole quieto. L'avevo incontrato nel salone dell'hotel Excelsior mentre stava rilasciando un'intervista a due famose giornaliste, Lietta Tornabuoni e Natalia Aspesi. Appena mi aveva visto arrivare, si era alzato dalla sedia, aveva atteso la mano sorridendo, scusandosi con le due signore. Io ero rimasto in disparte in attesa che terminasse l'intervista. Quando le due famose giornaliste si erano allontanate, ci eravamo abbracciati, lieti di esserci ritrovati e lo avevo intervistato per Radio K2. Da quel momento in poi ero stato insieme a lui per tutta la durata della mostra. Mi aveva presentato gli attori del suo film, Scott Wilson e Maya Comorosca. Abbiamo atteso con la medesima trepidazione l'esito della giuria. Il film aveva vinto il leone d'oro e tutti noi eravamo al settimo cielo per la gioia. Poi l'anno seguente l'hai rivista a Venezia. L'anno seguente Zannou si era tornato a Venezia con il film Il potere del male, interpretato da Vittorio Gasman, Marie-Christine Barol e Raph Vallone. Vittorio lo conoscevo già da anni e la Barol era arrivata insieme al marito il famoso regista Roger Vadim. Non c'era Raph Vallone, ma in compenso era arrivata la figlia Eleonora a fare citare i fotografi. Anche in quell'occasione ero rimasto insieme a Zannoussi fino alla fine del festival. Ci eravamo scambiati indirizzi e numeri di telefono per eventuali altri appuntamenti. Nel 1987 so che sei stato invitato a una prima al Teatro di Verona. Nel 1987 avevo ricevuto una sua telefonata da Parigi, dove abitava, invitandomi alla prima nel Teatro Romano di Verona del Giulio Cesare di William Shakespeare, del quale lui era il regista. Avevo subito consentito e, il giorno fissato, ero arrivato nella città veneta alloggiando a pochi metri dall'antico teatro all'aperto. Quando ci siamo incontrati, mi aveva presentato la sua signora Elsbeta, parente del giornalista Jas Gavronski, e mi aveva dato il biglietto per lo spettacolo. Poi si era intrattenuto con alcuni giornalisti nel foyer dell'albergo. Quella sera aveva assistito in prima fila alla tragedia, interpretata da Ivo Garani nella parte di Cesare. Accanto a me sedeva il professor Mauro Manciotti, che già conoscevo molto bene e scriveva sul secolo XIX. Come si è conclusa la serata, poi? Alla fine della serata c'era stata sul palco una premiazione. La città di Verona aveva voluto consegnare un riconoscimento all'attrice Lina Volonghi, grande artista che avevo conosciuto proprio al Teatro Verdi. Dopo la premiazione ci eravamo trovati noi tre con cittadini ed era stato un piacere parlare insieme in genovese. Il mattino dopo, salutato Zanussi e gli attori, io e Manciotti siamo ripartiti per Genova in treno, conversando di cinema per tutto il viaggio. Tu e Zanussi vi siete incontrati successivamente? Sì, ci siamo incontrati per ben due volte. La prima il 15 maggio 1991, durante il Festival di Cannes per la presentazione del film La doppia vita di Veronica, interpretato dalla bravissima Irene Jacob, che poi aveva vinto il premio come miglior attrice femminile. Zanussi in quel film aveva collaborato col suo amico fraterno Chieslowski. Aveva avuto così l'opportunità di conoscere sia il regista sia l'attrice del film. E la seconda volta? La seconda volta era venuta a Venezia il 3 settembre 1997, quando aveva presentato il suo film Fratello del nostro Dio. Una biografia su Papa Giovanni Paolo II, interpretato dal caro e dimenticato amico Scott Wilson, dal nostro bravo Riccardo Cucciolla e da un ancora poco conosciuto, Christopher Waltz, che ho ritrovato sempre a Lido due anni fa. Dopo di allora non ho più sentito Zanussi, anche perché lui è sempre in giro per il mondo e mi risulta che non abiti più a Parigi. Ma non vi preoccupo, si dice che solo le montagne non si incontrino mai e credo che ci saranno altre occasioni per ritrovarci ancora insieme. Grazie Mario per averci fatto conoscere e apprezzare il regista polacco Zanussi. Grazie a te Bruno e a tutti voi. E con questo saluto affettuosamente tutti coloro che ci seguono e alla prossima. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!